Sono Perez Uno, ho 17 anni e volevo raccontare con voi il mio posto del cuore. Il mio posto del cuore è il Colosseo. Il Colosseo è costruito al 72 d.C. Il Colosseo era un grande spazio per i spettacoli aperti a tutti i cittadini. Ospitava le lotte tra i gladiatori. Le relazioni giochi consistevano a caccia d'animali salvatici come leoni, tigri e elefanti. Il Colosseo, o anche come l'hanno chiamato in antichità l'amphiteatro Flavio, era il più grande amphiteatro del mondo che poteva ospitare 50.000 spettatori. La cosa che mi stupisce è che rimane ancora oggi una delle più complesse rappresentazioni dell'articultura romana. A me mi ha colpito perché è uno dei simboli più riconoscibili di Roma.